buongiorno a tutti sono daniele marotto della scuola di fumetto e scrittura di siena eccoci con il terzo video dedicato al colore in cui proveremo a colorare una vignetta di un fumetto in cui stiamo lavorando in vari modi diversi per cercare la giusta emozione e la giusta funzione del colore per cui andiamo subito grazie alle cose che ci siamo detti nei video precedenti a vedere come si fa allora eccoci qua questo che vi facciamo vedere è la prima pagina di un nostro storico progetto che potete vedere intanto in bianco e nero in parte sul nostro sito sul sito del collettivo legato alla scuola www.bandagialla.com ed è ancient una storia ambientata come dice la vita scalia 2500 anni fa ovvero ai tempi della neonata repubblica romana e quindi nel quinto secolo circa avanti cristo durante appunto l'apogeo degli etruschi e sarà un viaggio del protagonista dalla sicilia in cui è recluso fino a tornare in etruria il personaggio è un etrusco questa prima pagina è l'incipit in cui si vede una sicilia popolata di boschi un personaggio che sale una collina accalorata piena di insetti di caldo e poi si avvicina a questa capanna dove tiene prigioniero questo giovane etrusco allora di questa pagina abbiamo già un livello di colorazione come potete vedere che però non mi sembra soddisfacente nel senso che voglio provare a cambiare alcune cose come potete vedere questo è il livello di colorazione allora di base questa regola andrebbe sempre rispettata lavorando in digitale avere quindi un livello per lo sfondo bianco un livello per la inchiostrazione la line art comprensiva anche di vignette di bordi che in questo caso sono sul livello del colore per un problema che questo fumetto è stato sviluppato su un'altra piattaforma e non procreate come siamo qua e poi un livello di colore ok quindi potete vedere in questo caso il livello di colore senza in questo caso appunto il colore c'è anche le vignette e anche il bordo bianco comunque vedete questo è il colore senza le line art nera in questo caso vedete che è una tinta piatta che io prediligo rispetto alle sfumature classiche con delle ombre base ok quello che voglio voglio provare un colore diverso allora come dicevamo il colore necessita richiede una certa come posso dire serve a rendere sicuramente più leggibile la pagina se lo vedete qua dove chi è chi si riconosce subito anche qui però insomma di base vedete cielo paglia erba colline uomo cioè tutto è decisamente riconoscibile si vede il tizio un po di cose lasciate bianche per il sudore gli insetti che li volano intorno e questi boschi eccetera eccetera anche il sole vedete che colpisce la capanna è chiaro che nulla di tutto questo si può fare se non abbiamo dei buoni riferimenti per cui non possiamo sapere di prima acchitto come funziona il sole su delle rocce se non ce l'abbiamo sotto occhio per fare delle ombre decenti vi consiglio di semplicemente e semplici proviamo usare questo coso se abbiamo un colore di base come in questo caso a mettere un nuovo livello in quella questa questa lista c'è in tutti i programmi di disegno di pittura digitale da photoshop a clip studio paint a pro create che sono i tre programmi di disegno di fumetto digitale più più importanti c'è crita anche che è gratuito per pc allora vedete come queste si chiamano opzioni di fusione non vi sto a spiegare centomila cose in questo video ma insomma le opzioni di fusione andatevele a guardare sono i modi in cui i livelli che sono questi strati che abbiamo sopra interagiscono tra loro noi dobbiamo mettere in modalità moltiplica prendetela per buona questa cosa qui ok quindi io ho un colore nel mio livello 1 nel livello 3 questo caso sopra che chiamerò magari ombre per chiarezza ok ho bisogno di fare un'ombra qua allora scelgo un dal colore della pelle che è questo vado a prendere un colore più scuro più grigio ok di questa natura e poi la lo disegno nel livello moltiplica nel livello sopra in modalità moltiplica ok e vedete che lui sovrappone il grigio lo moltiplica con il colore che c'è sotto creando una sfumatura in questo caso è troppo fredda io questo l'ho già fatto quando ho disegnato questa cosa con quest'altro per cui andiamo a vedere apriamo un colore un po più di un po diverso si fanno varie prove ok e in questo caso appunto vedete l'ombra è giusta perché in questo caso facilita siccome è in modalità moltiplica va a in qualche modo facciamola un po più chiara va in qualche modo a aggiungersi al colore che c'è sotto esattamente come fa l'ombra normale proviamo qui sotto qui sotto la mano vedete mi dà subito un effetto ombra giusto poi essendo su livello a parte io posso schiarirla per esempio scurirla finché non abbiamo la cosa giusta dopodiché vi consiglio invece di tenere centomila livelli vi consiglio di quindi vedete adesso funziona perfettamente bene e infatti è uguale a quelle che avevo trovato io prima da proprio l'idea di una parte in ombra dopodiché anziché tenere un livello ombre per maggior controllo una volta che avete chiarito bene qual è il vostro la vostra ombra vi consiglio di unire il livello dell'ombra a quello del colore per semplificare vi rimane un livello solo perché perché una volta che avete definito l'ombra basta poi fare il pic di questo colore ombra per fare altre ombre proviamo a correggere questa parte qua che è venuta un po male ok e se invece volete togliere l'ombra basta fare il pic del livello contagocce del livello del colore e quindi vi semplificate la vita in con questo tipo di colorazione a tinta piatta ok allora e quindi potete tranquillamente lavorare scegliendo o il colore dell'ombra o il colore della pelle normale qui c'è una goccia di sudore per esempio qui ci vuole un colore della pelle normale pure pure qui c'è il cielo va sistemato un po e così va bene quindi questo per fare le ombre però andiamo al nostro lavoro qui sul ecco questa qui per esempio è un'ombra troppo scura per cui io la prendo da qui e vado a riempire direttamente questo esatto ed è funzionato un po meglio è anche troppo secondo me quindi possiamo alleggerirla questo va riempito per bene ed ecco fatto ok la posso addrizzare perché vedete non torna tanto una cosa utile ok va bene ora basta questa cosa qui ci posso mettere uno slargo di sole così così da ancora più l'effetto è così il nostro soldato romano sta avanzando verso il posto dove deve andare allora cosa importante io voglio cambiare questi colori perché sono sì chiari e leggibili ma non danno la giusta idea di caldo che io sto cercando vedete qui in questo progetto allora proviamo a cambiare alcune cose allora io posso cambiare in questo caso ho bisogno di un colore vorrei un colore più viscerale meno reale ma che trasmetta in modo molto forte quest'idea di calore ok quindi questi sono giusti ma voi pensate per esempio quando il cielo è affoso d'estate il sole non è il cielo non è così blu il cielo così blu ricorda il settembre ricorda la primavera ricorda delle correnti fredde ok quando il cielo è così blu di solito le correnti sono fredde quando c'è afa il cielo è più celeste sporco ok quindi andiamo a cambiare intanto questo elemento e quindi andiamo facciamo vediamo per esempio proviamo un cielo così quindi lo trasportiamo qua io il mio lavoro in questo in questo senso è molto dedicato a trasmettere le giuste emozioni le giuste sensazioni io ho bisogno di che il lettore provi quello che io desidero in questa scena ok per cui ogni elemento è funzionale a esprimere questa cosa ecco allora questo mi dà un'idea di maggiore calore un pochino metterlo anche qua ok già c'è un'idea abbastanza interessante posso provare anche a virare al pro è un po piombo andiamo su un colore un pochino più proviamo così meglio meglio qual è la regola come ci siamo detti l'altra volta un colore dominante ok qui il colore dominante nella prima vignetta è il bo la compagna nella seconda pure nella terza lui e la campagna nella quarta il cielo nella quinta il cielo insomma bene o male se la gioca sempre con questo elemento di verde quella è la parte più importante però per colorare io devo decidere un metodo pratico come sono tutti i nostri video vi consigliano dei metodi assolutamente pragmatici di lavoro immediato non troppo teorici per iniziare quando dobbiamo non sappiamo bene come colorare una vignetta dobbiamo partire un'illustrazione dobbiamo partire a dire cos'è che deve essere per me per forza in quel modo lì di base di solito per esempio il cielo è un'ottima cosa l'incarnato anche ok quindi qual è quella cosa che per forza deve avere quel colore lì ok allora già di base a me questo cielo un po più così mi sa un po più di afa poi quindi voglio vedere per esempio qual è il complementare di questo è questo che però forse per la pelle è troppo vedete c'è un effetto complementare ma è un effetto complementare un po artificiale cioè nel senso che funziona è giusto però io non devo mettere come dire fare una decorazione su una porcellana no in questo senso per cui un complementare che non userei però così semplice ma tornando da qui posso in qualche modo spostarmelo un po perché ricordate che complementare deve essere anche la tonalità proviamo così ok ci sta forse meglio troviamo qui ok vedete come la cosa funziona già meglio proviamo un altro sistema invece torniamo a io ho già questa pagina colorata ovviamente proviamo a modificarla con la tonalità il valore tonalità che hanno tutti i programmi ok cambio la gamma vedete di tonalità generale di tutto il fumetto c'è di tutta la gli equilibri ok a maggior parte ovviamente sono da buttare di questo che avete vi sballa completamente tutto però io volevo un pochino scaldare anche il verde dei campi renderlo più bruciato tipo più così vedete già mi dà un po più l'idea di caldo dopodiché tolgo un po di saturazione ecco e già ho una presenza meno brillante e un pochino che va a cercare quello che sto che mi sembra mi porta dove sto andando dove voglio andare io ok questo era quello di prima questo è quello di ora non va bene col colore carico lo desato lupo ecco qua ok questo già ci potrebbe stare di più vedete che dà un senso di maggiore soffocamento proviamo un'altra cosa ancora togliamo di mezzo tutto questo togliamo di mezzo questo livello e proviamo con una colorazione ancora diversa io ho trovato alcune cose allora si può si può rubare la tavolozza di qualcun altro ok a volte specialmente quando abbiamo voglia e bisogno di trovare delle soluzioni a volte anche siamo costretti a tempi brevi per quello che riguarda la come posso dire la produttività abbiamo bisogno di trovare soluzioni veloci eccetera eccetera tanto di base ispirarci specialmente ai colleghi specialmente per esempio ai grandi dell'arte dell'illustrazione o addirittura della pittura come era in questo caso che ora ha perso ok per esempio vedete quindi questo questi questi eccetera 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 no questo queste illustrazioni vittoriane eccetera eccetera quindi noi di base ci possiamo ispirare ma possiamo anche decisamente proprio prendere tutta la tavolozza ok per cui se abbiamo voglia di necessità o troviamo una chiave vedete questo qua è abbastanza interessante quindi e da quest'idea un po' che stiamo cercando noi no anche se diventa poi un po' più difficile da gestire allora poi cerchiamo quindi una tavolozza allora io avevo individuato questa qua che mi sembra particolarmente interessante poi chiaramente ognuno nel lavoro cerca il passatempo che crede no c'è chi vuole dedicare più tempo ed è questa cosa è totalmente libera c'è chi vuole impazzire dietro l'anatomia per cercare l'anatomia michelangelesca perfetta c'è chi vuole trovare impazzire dietro il colore per trovare il colore perfetto c'è chi vuole prendere meno ispirazione possibile fare tutto da sé c'è chi vuole dedicarsi alla narrativa e quindi tutto quello che è una narrativa trova cerca delle scorciatoie o delle facilitazioni è uguale questo non riguarda il lettore di tutto ciò non se ne accorge quello che è importante è che ogni autore trovi la cosa che lo fa stare bene e in quella si dedichi più tempo possibile e in tutto il resto trovi tutto l'aiuto possibile qui questo mi sembra interessante è un po' fuori dalle mie corde per cui a maggior ragione voglio capire se si adatta al nostro tipo di lavoro e se dà quell'atmosfera che io sto cercando per cui semplicemente me lo metto vicino e faccio un livello di griglia sopra o sotto ecco qua allora prendiamo in trasparenza le righe della griglia del livello colore di prima e poi tracciamo delle righe con la funzione fantastica di procreate che speriamo che altri programmi copino subito che tenendo facendo una riga storta e poi tenendo ferma la penna la riga diventa dritta quindi questo lo possiamo togliere adesso abbiamo un livello per il nero un livello per la griglia e sotto ci mettiamo un livello per il colore potremo anche fotografare questo e copiarlo diciamo che però per fare un lavoro che non vi uccida di noia lavoreremo solo su questa vignetta ok allora stiamo cercando un colore ancestrale un colore che sia un colore che parli alla pancia all'inconscio più che al cervello ok per cui questo colore secondo me mi sembra perché dà le indicazioni del colore ma allo stesso tempo racconta una storia antica ok quindi vediamo se si presta scusate la moto allora quindi vedete un cielo giallo non deve essere un cielo giallo di tramonto però ma deve essere un cielo giallo di di afa di calura ok di calura mediterranea per cui poi questo lo risolveremo con le ombre facendo delle ombre molto molto niente poi vedete usiamo questo arancio forte che qui è in un deserto e ci sta di più nel nostro modello di reference questo in un grande prato è un po più azzardato infatti poi ho difficoltà nell'elaborare le foglie che faremo con questo colore di contrasto per cui vedete dominante colore caldo però perché sono sia il cielo che invece che l'incarnato come in questo caso vedete che anche la collina e di contrasto come colore secondario abbiamo i colori freddi di questa tavolozza molto bella di carta zucro grigi verdi grigiati il gonnellino del lo cambiamo che prima era colore caldo adesso lo facciamo per contrasto perché sennò diventa tutto troppo rosso troppo giallo arancio e quindi facciamo questo colore verde dopodiché allo stesso modo è coraggioso per questo è importante chi non ha la vena del colore di colori particolari io non ce l'ho per esempio è importante trovare delle reference perché ci aiuta a capire bene come a fare quel salto che normalmente non riusciremo a fare come in questo caso c'è l'idea di fare un tronco blu per me non è semplice però con la spinta di questa reference mi torna decisamente meglio facciamo la parte sopra si può vedete selezionare e riempire si può fare il bordo col colore e riempire oppure colorare tranquillamente la cosa difficile sarà fare queste foglie questa erba in primo piano che in realtà è non creare un effetto troppo fasullo tra il primo piano e lo sfondo cioè riuscire un po' a degradare l'erba perché va poi piano piano a diventare arancio perché nella lunga distanza quindi questo frega un po' mentre qui nell'illustrazione principale di reference usano per tutto il suolo usano il però non c'è erba e per tutta la vegetazione usano i colori freddi però ce ne freghiamo e facciamo questa prova ok eccoci continuiamo a finire l'erba ora proviamo a fare un'altra tonalità perché una unica mi sembrava troppo finta per cui vedete con una doppia tonalità ci aiuta facciamo anche qualche altro fiori rosso che a questo punto da papavero diventano qualcos'altro però mi sembra allo stesso modo interessante io vorrei che desse un'idea di essere una sorta di pittura greca di vaso greco reso cartoon per questo sto cercando dei colori particolari l'ezza della spada ovviamente una volta che noi abbiamo stabilito dei colori di base poi andiamo a fare con il conto a fare il pic col contagocce anche per altre cose cambiando un po' la tonalità per cui vedete la guaina è più scura è un giallo più scuro un marrone e poi per l'ezza siamo il colore del cielo cioè andiamo a semplificare in modo da creare omogeneità qualche altro filo d'erba un'altra tonalità sui verdi per i fili d'erba in modo che si crea un po' una base di primo livello e poi andiamo a vedere un po' la nostra reference e come sviluppare ancora questo prato che in questa traduzione tra questa colorazione A e B è la parte un pochino più difficile adesso facciamo un livello per l'ombra quindi come abbiamo fatto prima un livello nuovo modalità moltiplica cerchiamo di pescare i colori giusti questo è un verde non va bene perché lo rende troppo marcetto proviamo un altro questo anche è troppo verde anche se già si vede la differenza andiamo sul colore rossastro questo eccolo qua perfetto da esattamente l'effetto ombra che cerchiamo come vedete una luce diretta che proietta ombre dirette toglie qui l'idea che sia il tramonto invece ci porta su un caldo affoso vedete le zone in ombra le facciamo tutte quelle che sono diciamo piegate per dare anche un'idea plastica è importante capire che con un livello di ombre fatto in questo modo molto semplice ed efficace noi possiamo tentare di coprire zone finché vogliamo finché non funzionano ok provo a fare l'albero lascio perdere perché è un livello a parte per cui noi possiamo cancellare in qualsiasi momento di toccare facciamo vedere delle ombre ed è finita la nostra vignetta praticamente in modo molto efficace ecco avete visto con questo video si chiude questa piccola introduzione sul colore non ho voluto fare tutorial veri e propri perché di tutorial è pieno la rete ma queste regole base vanno bene per qualunque tecnica digitale tradizionale e sono la base su cui può costruire ognuno la propria ricerca e la propria professionalità inizieremo dalla prossima volta a parlare dell'inchiostrazione che è il vero elemento chiave del fumetto che lo distingue anche da tutti gli altri media per cui vi ringrazio e ci vediamo presto da Daniele Marotte è tutto ciao